strangers in the night prova 1 2 3 funziona ciao a tutti ragazzi benvenuti nel nostro canale y2case in adventure io sono max e oggi siamo qui di nuovo per una nuova puntata per gli smanettoni del raspberry a bordo con open plotter siamo pronti vai sigla come avete visto grande novità abbiamo questo fantastico microfono mi sembra di essere un pochino la radio quindi però sono contento perché dovrebbe avere un ottimo audio e ce lo direte poi voi nei commenti se l'audio è migliorato per alcuni di voi sono lamentati giustamente ed è giusto migliorare il tutto però migliorare significa anche ringraziarvi ringraziare abbiamo ricevuto tantissime donazioni e chi ha inviato un caffè che ha inviato una birra che ha inviato una cassa di birra e grazie anche le vostre donazioni abbiamo acquistato questo microfono che dovrebbe sicuramente migliorare il tutto è poi accompagnato anche dagli acquisti che voi fate perché quando acquistate da amazon col programma di affiliazione mi arriva una piccola e piccola piccolissima percentuale da amazon che mi ringrazia di aver fatto pubblicità al loro negozio per voi non cambia nulla il prezzo sempre lo stesso però se continuate acquistare tramite i miei link non farete altro che aiutare questo canale oggi parleremo di victron io sulla mia barca ho questi bellissimi solar charger sono i regolatori di carica dei pannelli solari sono gli smart solar da qualche anno mi trovo decisamente bene con questi assolutamente ho cambiato per passare a victron un po perché volevo provarli avevo avevo a bordo un'altra cosa è un po perché effettivamente victron rappresenta probabilmente il top di gamma a bordo delle imbarcazioni in modo particolare la linea smart è possibile utilizzarla tramite il bluetooth ciò significa che collegarsi direttamente col telefono al charge controller e verificare come sta funzionando quindi quanto sta caricando i pannelli come come stanno performando qual è il voltaggio in base alle condizioni atmosferiche possiamo capire se funziona o non funziona l'altra cosa bella è che si possono aggiornare quindi domani uscisse il litio pinko pallino al quadrato sicuramente victron creerà un software aggiornato per poter caricare anche quel tipo di batteria così come sta succedendo per quello che riguarda le nuove batterie al litio un'altra cosa estremamente bella di victron è il fatto che tutte le loro applicazioni tutti i loro prodotti siano open source cosa significa per chi come noi lavora con raspberry lavora con arduino la possibilità di utilizzare le informazioni che arrivano da questi prodotti sulle nostre applicazioni e farci un po quello che vogliamo nel mio caso per esempio io ho tre di questi tre perché ho tre diversi gruppi di pannelli solari quando voglio vedere qua come si comportano devo uscire da uno entra nell'altro uscire da uno entra nell'altro e alla fine non riesco mai a tenere sotto controllo tutto è vero che nelle ultime versioni la victron ha creato la rete cioè possibilità di mettere fra di loro in rete via bluetooth e quindi riesco a capire quanto il gruppo sta caricando però non ho il dettaglio così al cento per cento ne ho approfittato perché un amico di barca qui in nuova zelanda mi ha chiesto di aiutarlo anche lui aveva questo problema vuole monitorare di aiutarlo a capire come poter fare e quindi ho approfittato per sviluppare una piccola applicazione che voglio condividere con voi questa applicazione non fa altro che collegarsi ai nostri controlli dei pannelli solari e tramite il raspberry riuscire a indirizzare le informazioni su un pannello un po' come lo avete sempre visto quando mi sta il computer adesso vi faccio vedere quello che ho fatto lui ha due regolatori solari e quello che ha fatto che ho fatto praticamente è questo ops scusate è questo come vedete ci sono tante informazioni e sono tutte visibili cioè io ho in questo caso il voltaggio della mia batteria e questo è anche molto comodo per chi ha impianti a 24 volt purtroppo non sono riuscito ad aiutare chi mi ha fatto questa domanda perché con il lina 219 purtroppo funziona per impianti fino a 12 volt fino a 23 volt quindi utilizzando questo prodotto se si ha un caricatore solare riusciamo a sapere anche il voltaggio della nostra batteria dei servizi sappiamo in tempo reale quanto sta caricando tutto il gruppo e poi abbiamo le informazioni sui singoli array sui singoli gruppi di pannelli solari in questo caso io sono collegato a due gruppi sulla mia barca io ho 82 gruppi da cioè due pannelli da 85 watt e due pannelli da 100 watt la cosa bella che vedo subito il voltaggio dei vari gruppi vedo quanto stanno performando quindi vedo che quei da 50 85 watt stanno funzionando molto meglio di quei da 100 watt vedo ognuno quanto sta producendo la massima potenza sviluppata oggi tenete presente qua siamo in inverno quindi è molto basso e quanto hanno prodotto ieri e quanto stanno producendo oggi qui vedete c'è un po di spazio libro c'è alcuni spazi libri perché la prossima volta faremo una un'integrazione con il con questo prodotto mi è appena arrivato io non ce l'avevo c'era una vecchia versione però ho comprato questa versione perché così anche essa possiamo collegarla al nostro raspberry e poter avere queste informazioni che sono preziosissime cioè sapere quanto la batteria è carica quanto gli manca per essere caricata eventuali allarmi cioè veramente il battery monitor è qualche cosa che tutti dovremmo avere a bordo e integrare tutte queste informazioni in un pannello immediatamente visibile secondo me è qualche cosa di eccezionale adesso vediamo come collegare il nostro regolatore smart solar al nostro raspberry dunque dobbiamo prima cosa acquistare questi questi cavetti praticamente sotto il nostro smart solar tutti tutte le versioni esiste questa porticina ve la faccio vedere poi in grande e così almeno la vedete bene è una porticina con 4 pin ed è una porticina adesso leggo perché non mi ricordo mai si chiama jst è un jst connector ovviamente questa è la versione maschio e questa è la femmina quello che dobbiamo acquistare è la femmina allora ci sono due possibilità per farlo uno è prendere questi prodotti e farcelo da solo altrimenti acquistare il cavo direttamente da victron in descrizione vi metterò tutti i dettagli dove acquistare tutto quindi è o farselo da soli quindi con questo cavetto è un adattatore usb lo andiamo a personalizzare o acquistare direttamente il prodotto da victor è la vostra scelta è uguale non cambia assolutamente nulla quindi dobbiamo acquistare questi questi queste spinette questi produttini questi connottori si chiamano jst connector hanno si chiamano ph 2.0 quattro porte allora ph 2.0 significa che hanno il pitch cioè la distanza fra i connettori di 2 mm comunque ripeto mi metto tutto in descrizione non si fa altro che connetterli alla porticina bianca che c'è qua sotto molti di voi avranno un jumper potete tranquillamente rimuoverlo perché è tutto programmabile tramite bluetooth quel jumper serve per gestire il carico se qualcuno di voi ce l'ha sulla porta load molto probabilmente non ce l'avrà quasi nessuno ad ogni modo è sufficiente collegare direttamente questo connettore qui che ha quattro fili io ce li ho di questi colori dipende un po' dove li troverete quali fornitore utilizzerete e potreste avere colori diversi la cosa carina è volendo che si possono anche sfilare e rimettere se i colori non vi piacciono come come sono come sono effettuati come sono in sequenza praticamente io ce l'ho in questo momento che è il nero rosso bianco di questi quattro fili ce ne interesseranno soltanto tre vi spiego il motivo uno è il famoso ground ci sarà sempre poi abbiamo la trasmissione e la ricezione l'ultimo filo è il il voltaggio a noi non interessa perché perché questo strumento funziona a un voltaggio diverso dal nostro raspberry quindi non dobbiamo collegare altrimenti bruciamo come sempre il raspberry quindi come funziona il nostro connettore è fatto apposta perché lo si possa inserire in un modo ben preciso ha una sorta di scanalatura qui sotto qui in questo caso un gradino e nella femmina abbiamo la scanalatura dobbiamo sempre guardarlo con la scanalatura di fronte quindi questa porta con la scanalatura di fronte avrà il connettore 1 2 3 4 quindi al contrario dall'altra parte quindi sarà con la scanalatura di fronte avremo da sinistra verso destra 1 2 3 4 è molto facile non si può sbagliare quindi una volta collegato il nostro numero 1 è quello dove guardando con la scanalatura in basso è sulla destra attenzione che alcuni regolatori hanno la porta al contrario quindi mi raccomando la scanalatura controllare sempre la scanalatura nei dettagli vi metto anche il manuale della victron dove parla esattamente di questo ma è molto molto facile allora abbiamo detto che noi ci siamo i primi tre cavi quindi con la scanalatura in basso sono 1 2 3 il quarto cavo non ci interessa quindi lo potete o rimuovere o tagliare o fare quello che volete il primo cavo è la massa quindi il ground il secondo cavo per me il rosso devo andare a riguardare è l'rx cioè la ricezione e il terzo cavo è la trasmissione dei dati questi fili devono essere collegati al nostro raspberry chiaramente così non possiamo allora dobbiamo utilizzare un adattatore usb si chiama usb attl è una come si può dire è un protocollo di trasmissione a transistor viene chiamato proprio a transistor della 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 trasmissione seriale quindi funziona come la trasmissione seriale però a posto del rs 232 che è quella che avevamo utilizzato e vi ricordate per il nostro ne mea 0 183 funziona a 12 volt quindi fa 12 volt up 12 volt down questo ttl funziona per la parte digitale che sempre 3,3 volt oppure 5 volt che perché come vi ricordate il nostro raspberry funziona appunto in quel range di dati quindi dobbiamo tradurre queste informazioni in modo tale che il nostro raspberry lo capisca questo non è una pura non è un puro collegamento del filo verso la usb qui dentro c'è dei chip di connessione per essere riconosciuti dal nostro raspberry come funziona quindi indipendentemente dalla diciamo dalla versione che voi troverete di usb anche l'usb avrà quattro fili ok nella versione che io ho comprato e comunque ogni produttore vi darà il suo schema i miei quattro fili saranno il dunque il rosso è quello che io non collegherò perché il cinque volte che andrebbe a collegarsi con i dodici volte e non voglio bruciare tutto quindi il rosso io non lo utilizzerò mai useremo il rosso il bianco e il verde nella mia usb il nero andrà con il nero leggo perché ovviamente non me lo ricordo il dunque il rosso che arriva dal dal mio regolatore solbian andrà con il green quindi l'rx va con il tx del mio raspberry e poi abbiamo il bianco che è il tx del esatto del regolatore andrà con il bianco casualmente che è l'rx del mio raspberry queste connessioni potete fare un po come volete potete saldarle potete mettere dei wago potete mettere un po quello che volete un po fate fate veramente perché sono connessione a bassissima potenza quindi non serve chissà che cosa imparate che siano isolate fra di loro allora attenzione che l'usb potreste avere non so faccio un esempio il raspberry potrebbe essere nel vostro vicino ai vostri strumenti vicino al vostro tavolo da carteggio potrebbe essere un po ovunque devo dire la verità effettivamente però di solito sarà vicino al tavolo da carteggio i vostri regolatori potrebbero essere a poppa quindi non so 10 metri lontani se avete una barca grande quindi questa connessione non potete prolungare la osb ma potete tranquillamente visto che è un collegamento seriale prolungare questi fili quanto volete quindi utilizzate un filo un cavo guainato magari a tre poli e potete prolungarlo tranquillamente e fate questa connessione con l'usb vicino al vostro raspberry non è un grande problema di dimensione dei fili quando prendete uno 025 quando prendete veramente una cosa di solito sono i cavi quelli per i citofoni i cavi per gli ambienti d'allarmi vanno benissimo anticipo la domanda perché sicuramente qualcuno di voi avrà il raspberry già occupato chi avrà la rete wifi usb che avrà l'rs 232 connessa al nemea poi magari avrete qualche altra cosa l'antenna esterna quindi di porte già ce ne saranno poche potete tranquillamente moltiplicare le porte con un hub usb prendete da quattro porte non alimentato e quindi potete moltiplicare una porta in quattro porte se volete mettere un hub usb più grande quindi 12 porte magari 15 porte perché li vendono prendete un hub usb alimentato esternamente a 12 volt che collegherete alla vostra batteria ok eccoci al pc pronti per configurare il nostro raspberry con i nostri pannelli solari allora io ho montato non ce l'ho qui con me perché ovviamente deve stare vicino ai ai regolatori perché non ho un cavo così lungo quindi l'ho spostato con una batteria vicino ai miei regolatori ho collegato uno solo dei regolatori alla porta seriale vi spiego perché è uno solo nonostante io ne abbia due perché così a me non riesco a identificare quale sto collegando a potergli dare un nome vediamo come e vediamo sul esempio come sempre apriamo vnc viewer ci spostiamo sulla nostra finestra 10.10.10.1 e andiamo a vedere sotto open plotter seriale andrò un po più veloce del solito per chi è la prima volta che vede il video lo consiglio di vedere i nostri video precedenti come vedete sulla sotto la porta seriale lui ha collegato l'usb che ho appena collegato io non ho altre seriale in questo momento se per chi di voi avesse altre seriale ovviamente non si chiamerà tty usb 0 ma si chiamerà la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 quello che sia prendete nota di questo nome tty usb 0 perché ci serve per dare il nome a questo array di pannelli solari per me sono ho collegato i due pannelli da 85 watt che ho ok ci spostiamo a questo punto sul browser andiamo sul nostro bel signal key 10.10.12.3000 facciamo il solito login pi open plotter remember me vediamo che ci sono i soliti nostre attività io sono collegato via tcp alla barca quindi sotto data browser avvio i miei dati di navigazione ok dobbiamo andare a questo punto in app store sotto available selezioniamo all e cerchiamo vi e direct ma solo vi e vediamo vi e punto di eccolo qua vi e punto di per esempio e compare questo plugin installiamo il plugin non so quanto tempo ci mette adesso velocizziamo il video e ci ha impiegato più di qualche minuto siamo arrivati a questo punto lo status è install come vedete e come sempre quando installiamo un nuovo plugin resettiamo nel frattempo che si restate ci impiegherà qualche secondo voglio ricordarvi che ovviamente dobbiamo essere collegati a internet con nostro raspberry quindi per chi non è collegato a internet ricordo anche qui di vedere gli episodi precedenti perfetto a questo punto siamo di nuovo collegati vediamo che il via direct è collegato a questo punto andiamo sotto server a c'è una nuova c'è un nuovo aggiornamento signal che poi più tardi lo facciamo in fondo al video poi vi racconto come aggiornare anche il vostro raspberry perché di tanto in tanto è corretto come si fa con windows come si fa con gli apple aggiornare il sistema operativo in fondo al video lo facciamo andiamo quindi su plugin config e vediamo tutta la nostra configurazione via direct signal eccolo qua abilitatelo se non abilitato io ho fatto delle prove prima quindi molto probabilmente si è abilitato già da solo ci chiede perfetto dov'è il tuo device è collegato alla porta seriale ok come si chiama la porta seriale ricordatevi ho detto di prendere buona nota è dev tty usb zero se non vi ricordate ritorniamo direttamente sotto come si chiama il nostro qui adesso ho lanciato un'altra applicazione frattempo la chiudiamo ho sbagliato icona ritornate sotto il vnc view è andata a vedere il come si chiama la porta che è tty usb zero sotto dev a questo punto si chiuditi torniamo nel nostro signal che deve essere tty usb zero scritto uguale uguale mi raccomando non toccate nulla porta lasciate uguale lasciate ignorcio exam andate soltanto a mettere quello che vi interessa qui io vi consiglio di lasciare un po tutto uguale perché quali chiede come si chiama la batteria principale come si chiama la batteria ausiliaria come si chiama il primo pannello solare quello che potete cambiare è eventualmente questo pannello 1 pannello 2 potete chiamarlo un po come volete in realtà qui non va incidere perché poi daremo il nome da un'altra parte ok ci siamo a questo punto facciamo submit restart ok aspettiamo come sempre che si riavvi il nostro signal che ci piega come sempre qualche secondo eccolo qua sta ripartendo se tutto è andato per benino come sempre sotto direct signal comincerà a comparire dei segnali il segnale di ricezione dei dati eccolo qua è arrivato quindi se andiamo sotto data browser vedremo che sotto electric electrical battery house current cominciano ad arrivare i dati adesso io non posso più paragonarlo col mio perché lo staccate da qui per collegare a quello però vediamo tutti i dati relativi al primo pannello quindi abbiamo la corrente che sta caricando quanto è il voltaggio della batteria e vediamo che in charging mode in bulk eccetera quindi vediamo un po di poi vediamo tutti i dati del pannello 1 ok perfetto adesso mi alzo vado a collegare il secondo pannello ok ho inserito all'usb in un'altra porta del raspberry ritorniamo sotto vnc facciamo il refresh sotto serial ed è comparsa la seconda porto usb che ho collegato quindi si chiama tty usb 1 per voi sarà la tre la cinque la sei quello che sia ricordatevi però di verificarla quindi ritorniamo ancora sotto il nostro signal key server plugin config andiamo ad aggiungere un'altra istanza quindi collegato via seriale la usb questa volta è la numero 1 lasciamo tutto il resto uguale a parte il nome che vogliamo dare al secondo pannello io chiamerò panel 2 facciamo summit e come sempre controlliamo facciamo il restart ok aspettiamo qualche secondo ecco che è ripartito vediamo se il vi è da rexina eccolo qua anche lui ai dati andiamo sotto data browser controlliamo se abbiamo anche oltre pannello 1 abbiamo il pannello 2 eccolo qua panel 2 fantastico ok dobbiamo fare una piccola aggiunta in node red per dare i nomi al nostro applicativo al nostro al nostro i pannelli quindi apriamo come sempre no dread vi ricordate web app node red e si apri un'altra finestra scaricate dalla dal link che avete in descrizione come sempre beat punto ellipsino slash y2k meno video sotto video 8 trovate il file solo al panel punto json clic tasto destro scarica lo scaricherà sotto la vostra directory download ok siamo a posto vi ho messo anche se per chi ha voglia di leggere come è stato sviluppato il protocollo via e dare dalla parte della di di victron torniamo in node red andiamo in fondo sotto import andiamo a selezionare il nostro file che sotto download solo al panel json eccolo qua l'ultimo abbiamo scaricato ok new flow import ok eccolo qua ci ha creato il nuovo pannello solare allora dobbiamo abilitare questo questo non fa altro che inviare ogni cinque secondi a signal key i nomi dei nostri pannelli solari quindi lo abilitiamo che l'avevo disabilitato e qua andiamo a dare il nome ai nostri pannelli solari quindi per il panel 1 per il panel 1 io l'ho chiamato 2 per 85 watt eccolo qua basta cambiare il nome volevo chiamarlo pippo metterete pippo io lo chiamo 2 per 85 watt perché mi piace sapere quali pannello sto utilizzando se non avete messo panel 1 avete messo già un altro nome basta cambiarlo qua mi raccomando questo è il percorso da aggiornare dan panel 2 uguale andrò a mettere il nome del pannello stessa cosa panel 2 se io qui l'ho chiamato all'interno di signal che in un altro nome dovete cambiare qui l'indirizzo dan per chi ha un pannello solo il consiglio tranquillamente questo di disabilitarlo oppure di cancellarlo per chi ha più pannelli o più array basta copiare questa questa risorsa quindi se selezionate ctrl c ctrl v e andate ad aggiungere altre altri collegamenti fate panel 3 panel 4 eccetera eccetera è molto molto semplice deploy vi ricordate sempre deploy per confermare se adesso andiamo a vedere sotto signal key sotto data browser vedremo che abbiamo il nome del mio primo pannello questo arriva da node red ok array name perfetto adesso che abbiamo tutti i nostri dati dobbiamo andare su android per visualizzarli abbiamo sempre utilizzato l'applicazione virtuino mqtt in passato per collegarci a un server esterno mqtt vi ricorderete sicuramente salvatore un nostro follower mi ha sempre fatto notare che forse è possibile collegarsi anche localmente ed è vero assolutamente non l'ho sempre dato per scontato ci si può collegare anche localmente quindi questa volta in questa applicazione utilizzeremo virtuino mqtt per collegarci al server che è sempre stato e sempre esistito creato da signal key sul sul nostro raspberry l'indirizzo del server quale sarà 10.10.10.1 sempre sulla porta 1883 questa volta però al posto di utilizzare virtuino mqtt che è una piattaforma di sviluppo il software ve l'ho già preparato io quindi utilizzeremo virtuino se viewer serve solo per visualizzare senza dover fare modifiche quindi una volta che vi installate questa app sempre dal play store di google quindi clicchiamo sull'app dobbiamo prima scaricarci l'applicazione che vi fornisco io quindi apriamo il browser quindi sempre dall'indirizzo bit.ly barra y2k meno video ok sotto video 8 ci sono due applicazioni vmqtt cioè per un pannello oppure per due pannelli quindi scegliete quella che è più congeniale per voi in questo caso comincerò a scaricare quella per due pannelli visto che ne ho collegati due scarichiamo qui dipenderà dalla velocità del vostro browser dove scaricherà l'applicativo questo possiamo anche chiuderlo l'applicativo lo scaricherà nella directory download nella cartella download del vostro telefono o tablet quindi a questo punto entro sotto virtuino se vado sotto load l'applicato il folder abbiamo detto è quello di android download folder e selezionerò la mia solar tablet 2 lui si caricherà e si connetterà immediatamente al nostro server mqtt che è il nostro raspberry per chi avesse cambiato indirizzi ip potete farlo tranquillamente da qua quindi dal 3 dal menu andate sotto server settings sotto open plot vedete qua c'è il nostro server e qui quindi selezionate la porta scusate la porta l'indirizzo i più ip più corretto per il vostro raspberry se state lavorando con l'applicativo e con la configurazione che abbiamo sempre lavorato in questi ultimi mesi è 10.10.10.1 quindi confermiamo torniamo indietro e qua vediamo il nostro bel applicativo come vedete abbiamo tutte le informazioni dei nostri due pannelli quindi i nomi che abbiamo inserito noi tramite node red il voltaggio dei due pannelli cioè dei due re in questo caso io ce li ho collegati in serie fra loro quindi il voltaggio un po più alto quanto stanno producendo in watt in questo momento entrambi quindi sia un array che l'altro la potenza massima sviluppata oggi è quello che è successo nella giornata di ieri nella giornata di oggi cosa sta accadendo lui automaticamente si resetta capisce il cambio delle 24 ore quando non produce più quindi capisce quando è la notte il il nostro victor è molto intelligente da 12 pannelli prendiamo anche il voltaggio della batteria principale e quanto entrambi i pannelli o uno o due quante ne avete 3 20 quanto ne avete entrambi i pannelli stanno caricando sulle nostre batterie cioè in questo momento io sto caricando 2 ampere qui sono le due del pomeriggio ormai è anche inverno quindi è molto molto basso come da la produzione però qui abbiamo questo abbiamo un po di spazi vuoti come vedete perché prossimamente andremo a sviluppare delle nuove sviluppare introdurremo dei nuovi dati su questa piattaforma e qui in basso abbiamo la versione 1.0 io normalmente andrò ad aggiornare questa versione con i nuovi e con delle nuove informazioni quindi sempre sotto la mia directory troverete l'ultima versione disponibile solo un piccolissimo aggiornamento su virtuino e se viewer il software è gratuito lo confermo ha soltanto un piccolo trick fatto dal dallo sviluppatore che dopo un tot di minuti si disconnete quindi se volete lasciarlo sempre attivo come ce l'ho io su un tablet dovete comprarlo costa se non ricordo male due euro e mezzo tre al massimo nel caso in cui quel prodotto che ho sviluppato risulti troppo grosso per lo sviluppato per un tablet con una risoluzione 1920x1080 dal menu c'è il resize quindi potete tranquillamente selezionare più in alto più in basso fino a quando non trovate la vostra dimensione corretta è stato sviluppato per essere orizzontale su un tablet direi che non c'è altro da aggiungere adesso vi faccio vedere come aggiornare il raspberry accediamo al nostro vnc dal menu accessori apriamo una finestra terminale qui digitiamo sudo spazio apt update scriviamolo magari corretto lui adesso va a lavorare e cerca in rete tutti gli aggiornamenti ovviamente bisogna essere collegati a internet ci può impiegare anche diversi minuti dipende un po' dall'ultimo aggiornamento che avete fatto e quanto lui ad aggiornare adesso lui sta scaricando in questo momento tutti gli aggiornamenti che questo raspberry ha bisogno dopodiché una volta che ha letto tutto ciò che ha bisogno lanceremo un altro comando ecco qui quando ritorno il cursore sudo apt spazio full meno upgrade lui dall'elenco che si è fatto comincia a scaricare tutto ci chiede di continuare si comincia a scaricare tutto e ad aggiornare il sistema ecco qui veramente può impiegarci un bel po' di tempo dipende ripeto dall'ultima volta avete fatto l'aggiornamento adesso andremo avanti ancora un pochino non vorrei andare avanti molto ecco questa cosa vuole fare vedere l'avanzamento qui in alcuni momenti potrebbe anche incantarsi fisso sul 20 per cento sul 30 per cento da qualche altra percentuale lasciato a lavorare non spegnetelo mai perché ripeto può essere anche molto molto lento ok una volta che ha finito facciamo un riavvio quindi sudo spazio reboot lui automaticamente si riavvia un po' come fare il controllo e cance e riavvio su windows anche questa volta abbiamo fatto un bel progettino sono molto contento andremo avanti successivamente perché voglio inserire qui all'interno del nostro della nostra nuova schermata voglio inserire alcuni dati che arrivano dal nostro bmv il battery monitor della victron e quindi ci aggiorneremo prossimamente come sempre se vi è piaciuto il video mettete mi piace un commento per dirci se vi è piaciuto il video o se volete vedere qualche altra cosa e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ciao ragazzi apro alla prossima